Virginia Raggi, la candidata del Movimento 5 Stelle a Roma, è già in piena campagna elettorale. In questi giorni stiamo assistendo a una polemica che non ci appassiona, fatta da PD e PDL su numeri e primarie truccate. Mentre loro giocano con i numeri, noi invece diamo le risposte ai problemi della città e parliamo di mobilità, di rifiuti, di trasparenza e cerchiamo soluzioni per rilanciare l'imprenditoria in questa città. Ritengo che possiamo tranquillamente definirci l'unica forza credibile.